buonasera dal millennium terza giornata del torneo holly e benji si affrontano tokyo verdi contro new team calcio di punizione per il new team solito cavaliere col destro che gol di cavaliere new team 1 tokyo verdi 0 brosio tocco centrale il velo tocco per esposito la finta del numero 8 bella la giocata il pallone col destro gol pazzesco di esposito pareggio i conti tokyo verdi 1 new team al pallone giocato perso malamente ancora in area di rigore e il new team trova il tutto sud ambrosio che allunga per ambrosio lancio lungo del numero 4 la sponda in mezzo attenzione colpa di testa e diventa gol incredibile colpo di testa di del grosso rimessa laterale per il new team attenzione cavaliere a gaccia il pallone nella di rigore cosa ha sbagliato qui cavaliere che poteva contro il numero 4 il tacco di cavaliere splendido ancora per murra la giocata di morra tiene il pallone calcio a morra c'è una deviazione calcio d'angolo ma l'arbitro dice che per ora basta così termina un primo tempo divertente la mette giù col petto poi rischia però e perde attenzione il pallone cavaliere sono in tre del new team pallone interno per rossi miracolo di antonelli che salva il risultato morra filtrante il pallone di morra che aggancio di cavaliere la girata che traversa ha preso cavaliere lancio perfetto di morra del numero 6 serve all'indietro noschese avanza il 13 pensa la conclusione calcio 3 a 2 new team ma il gol di noschese occhio al destro di cavaliere si attende il fischio dell'arbitro che arriva adesso ma il 22 calcio ancora cavaliere new team 4 tokyo verdi 22 doppie ancora esposito il tocco verso greco persa palla allora della versano parte contropiede sono tre contro due della versano costa al centro per noschese incredibile ancora è scivolata michele noschese non è ben trovati dal millennium siamo qui con noschese si è appena conclusa new team contro tokyo verdi risultato di 4 a 2 per la squadra in maglia bianca allora noschese la partita molto divertente un primo tempo 2 a 2 scoppiettante due reti fantastiche una di cavaliere e uno degli avversari di esposito alla fine poi tutta la qualità e la tecnica del new team nel secondo tempo però è uscita fuori credo che tecnicamente eravamo un poco superiori agli avversari anche se loro hanno giocato molto bene e all'inizio non riuscivamo a giocare come giochiamo di solito però nel secondo tempo abbiamo creato e per fortuna abbiamo segnato abbiamo detto grandissime rete tra cui quella proprio tua con un gran tiro da fuori soprattutto anche grande prestazione di cavaliere ma di tutto il new team comunque che conquista la seconda vittoria in questo torneo sì abbiamo giocato tutti quanti bene anche ivan ci dà una grossa mano ogni partita speriamo di continuare così e di continuare a vincere bene ringraziamo noschese dal minuto